Ciao a tutti, siamo sulla Casilina, sulla Casilina a Roma e sono le sette del mattino. Buongiorno signora, mi scusi, lei sta andando a fare la spesa? Non mi vuole rispondere? Sto facendo un'intervista. Non sono di nessuna televisione, è una cosa mia. Stanno andando a fare la spesa? Volevo solo che mi dicesse una ricetta, guardi, una ricetta per mangiare. Me la dice signora? È arrabbiata? Signora è arrabbiata? Vuole che me ne vada? Eh? Come si chiama? Ma parla italiano, sì? Le posso fare una domanda di politica? Guardi, se lei mi dice che me ne devo andare, me ne vado. Me ne devo andare? Ma parla Grazie a tutti